Il ricordo dei doni di Natale Parlo sempre molto indietro Il dottor Luigi, era azionista della Rane Rossi mi sembra Tutti gli anni per Natale ci portava un taglio di vestiti Per ogni familiare, noi avevamo cinque Cinque tagli di vestiti Tutti gli anni Io ero sempre vestita benissimo Perché tutti gli anni ci portava questo taglio di vestiti Tessuti bellissimi Tant'è vero che quando mi sono sposata Mi è stato regalato un panno della Rane Rossi Che ce l'ho ancora, morbido come allora E la copertina di mio figlio del lettino La nonna, la signora Mariele mi regalò La copertina del lettino di mio figlio Che ce l'ho ancora, la che gira Morbida come quando me l'hanno regalata Cioè io ho vissuto benissimo qua